con il ministro per la pubblica amministrazione che è nostra ospite, la ringraziamo per questo, Fabiana Dadone, bentrovata. Buonasera. Poi in un secondo momento avremo il direttore dell'Agenzia dell'Edogane. Ci accompagna in queste due interviste Andrea Bassi, del Messaggero. Bentrovato Andrea. Buonasera a voi. Allora, Dadone, parto con il recovery, poi dopo parleremo più precisamente di questioni inerenti al suo di Castero. Però è vero che non c'è nessuna scadenza formale, c'è stata già detta da numerosi ministri, anche diciamo quello più titolato a dircelo, nel senso il ministro dell'Economia. Però è anche vero che negli altri paesi, faccio l'esempio spesso della Francia, sono un po' più avanti, hanno dei piani già definiti, ne hanno già iniziato a parlare. Perché noi siamo ancora fermi alle bozze? In realtà non siamo fermi alle bozze. Abbiamo provato ad elaborare e a discutere questi piani in maniera più condivisa possibile. abbiamo deciso di fare il passaggio parlamentare. È chiaro che per riuscire a costruire un piano così complesso e su cui punta così tanto il nostro paese e su cui veramente dovremmo investire per il futuro dell'Italia, servono delle interlocuzioni che sono fondate, importanti, anche perché certi argomenti, penso ad esempio alla pubblica amministrazione, riguardano degli ambiti trasversali. Per cui è giusto discuterne il tempo necessario. È giusto anche che le bozze, io non ci vedo niente di male, vengano viste e riviste, che la discussione sia il più costruttivo possibile. Se ci sono dei rilievi da fare sul merito, li si faccia. Poi si faccia il passaggio parlamentare, che per noi è fondamentale, e si provveda poi al passaggio, come ha riportato il ministro Mendola, a metà febbraio a Bruxelles. Domanda politica e poi dopo passiamo alla pubblica amministrazione. Proprio sempre sul recovery e le bozze, quelle che abbiamo in mano adesso, è vero, non sono ufficiali, ma qualcosina di vero ci sarà, sembrano aumentare i soldi per esempio per scuola, sanità. Il pungolo di Tagliaviva, il pungolo di Renzi, in qualche modo è servito a migliorare queste bozze? Io non credo che sia un fatto di pungolo utile al miglioramento. quello che è utile è discutere in maniera aperta su tutti i progetti. Qui dobbiamo renderci conto del fatto che questi soldi saranno fondamentali per riuscire a disegnare l'Italia di domani, quello che vogliamo lasciare alle prossime generazioni. Per cui se è necessario discutere in maniera aperta, esce ora da quelli che sono poi le dinamiche di difesa anche dei propri ministeri, di investire più soldi nella scuola o più soldi nella sanità, è giusto farlo indipendentemente da quelle che potrebbero rappresentare le quote dei vari partiti o le difese d'ufficio dei propri ministeri. È indubbio che fosse necessario aumentare gli investimenti sulla scuola e sulla sanità, pertanto su questo si è ritenuto di aumentarle. Poi vedremo ancora al Parlamento che tipi di modifiche farà, chiaramente. Senta, abbiamo detto più volte che la pandemia è stata una sorta di stress test, lo è stato per tutti, non solo per i paesi, anche per le aziende, per le organizzazioni, anche quindi per la pubblica amministrazione. Lei pensa che la pubblica amministrazione italiana abbia superato questo stress test? È complicato da pronunciare. Secondo me assolutamente sì, anche perché ricordiamoci che chiaramente l'emergenza è intervenuta in un momento improvviso nel quale abbiamo dovuto bloccare tutto e distanziare tutte le persone, sostanzialmente fermare il paese e rallentare il contagio rallentando la mobilità e gli spostamenti. La pubblica amministrazione in questo è riuscita a organizzarsi in tempi rapidissimi da remoto. È chiaro, non in maniera perfetta, io non voglio assolutamente dire che tutto sia stato perfetto e non mi sento di fare una difesa d'ufficio, però diciamo anche che di fronte ad una situazione davvero complessa, i dipendenti pubblici hanno reagito molto bene, nonostante negli anni non si sia investito molto nella formazione, nella digitalizzazione della pubblica amministrazione, cose che invece abbiamo cominciato a fare in maniera massiccia in questo anno e che faremo grazie anche ai fondi del recovery. Ci siamo ricordati di quanto fosse importante la pubblica amministrazione e siamo riusciti a farla funzionare pur da remoto, ma questo è proprio grazie alle persone che però lavorano all'interno della pubblica amministrazione, che troppo spesso secondo me sono state descritte anche in una maniera non corretta, facendo molta attenzione a che cosa non funzionasse, molto poco, invece alle eccellenze che ci sono e secondo me anche durante la pandemia ci sono stati degli esperimenti molto positivi, penso comuni che addirittura hanno attivato dei servizi chatbot per riuscire a permettere agli utenti di dialogare anche in maniera diversa e innovativa con la pubblica amministrazione per riuscire a prenotare gli appuntamenti, per riuscire ad avere dei certificati. Si è fatto un salto avanti che è stato un salto avanti positivo, si tratta di metterlo al regime e di guidarlo e di portare tutta l'amministrazione allo stesso livello. Andrea, oltre a chiederti se hai una domanda per il Ministro, ne avrai sicuramente più di una, una delle pietre angolari del recovery è sicuramente la digitalizzazione della pubblica amministrazione, per cui sono stati previsti sbagliati miliardi, una decina sembrerebbe. Secondo te siamo pronti al riguardo? La prima cosa che vorrei fare osservare è che di quei 10 miliardi di fondi che sono stati stanziati per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, oltre 4 miliardi, poi questo magari la Ministra D'Adone ce lo potrà confermare, in realtà sono previsti per un capitolo che è il cashback, ossia il rimborso delle spese, di quel 10% di spese che abbiamo già sperimentato durante le vacanze natalizie e che onestamente ha poco a che vedere con la digitalizzazione, ma probabilmente ha più a che vedere con un altro capitolo che è quello della lotta all'evasione. Quindi quello che posso notare è che forse sui 209 miliardi di euro che sono stanziati dai fondi europei, o meglio, ormai sono saliti a 220 miliardi dopo gli ultimi ritocchi che sono stati fatti, il capitolo di digitalizzazione della pubblica amministrazione sembra alquanto limitato, in questo senso qui quello che si potrebbe domandare alla Ministra è se date le trattative che ci sono in queste ore, che sono state in questi ultimi giorni di rimodulazione dei vari capitoli del recovery, se anche sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione è stata sempre definita come la principale poi delle riforme del recovery, quella che doveva attuare tutte le altre è stato fatto qualche passo ulteriore. Ministro, se l'APA è stata trattata un po' male potrebbe andare un po' meglio nel recovery? L'APA potrebbe essere sempre trattata meglio dal mio punto di vista perché è fondamentale rendersi conto che effettivamente è l'ossatura del Paese. Le interlocuzioni sono ancora in corso in questo momento. Chiaro che più risorse riusciremo ad avere per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, migliore sarà il risultato finale. Teniamo però conto che non è tutto incluso soltanto nel primo cluster che riguarda la digitalizzazione di alcuni servizi della pubblica amministrazione, ma altre risorse che riguardano la digitalizzazione della pubblica amministrazione, penso alla sanità, oppure dei cablaggi digitali delle scuole, sono messi in altri capitoli di spesa ma sono presenti. Quindi secondo me se riuscissimo ad aumentare ulteriormente la parte di risorse destinate alla pubblica amministrazione lo troverei giusto e adeguato sempre, non lo dico solo perché sono il ministro della pubblica amministrazione, ma perché credo che sia importante avere... Io ho sempre buone speranze, sono un'ottimista convinta e credo che sia seriamente necessario non solo avere tanti soldi ma anche capire dove andarli a spendere, perché non si tratta soltanto di andare a digitalizzare ma anche di andare a investire tanto sul capitale umano e sulla formazione di chi abbiamo all'interno delle pubbliche amministrazioni oggi, chiaramente con una capacità anche di reclutare diversa chi entrerà un domani nella pubblica amministrazione. A questo proposito, chi si dovrà occupare della digitalizzazione dell'APA? Solo lo Stato o ci sarà anche il contributo dei privati? Non siamo ancora scesi così nel dettaglio all'interno dei progetti. Quello che abbiamo visto finora sono le macro aree, i macro progetti che riguardano per esempio l'idea di creare un cloud nazionale, quindi di portare le amministrazioni a lavorare in cloud oppure ad utilizzare l'intelligenza artificiale applicata ai servizi della pubblica amministrazione per riuscire non soltanto a controllare che cosa facciano ma più che altro a monitorare i tempi di erogazione delle pratiche, l'ottica del risultato, riuscire a dare un feedback all'utenza di ciò che viene fatto. Perché io credo che quando si parla di pubblica amministrazione dovremo un po' uscire dall'ottica di quello che si fa per migliorare la pubblica amministrazione fino a se stessa ma provare a metterci dal punto di vista di chi invece viene tutti i giorni all'interno degli uffici pubblici e provare a coinvolgerli di più in una fase di miglioramento dei servizi pubblici. Perché credo che la soddisfazione del cittadino rispetto all'erogazione di un servizio sia il modo migliore per riuscire a farlo sviluppare nel modo migliore possibile. Si è parlato per anni per esempio di semplificazione e di sburocratizzazione ma io credo che non è che dentro i palazzi si possa avere la sfera magica e sapere tutto quello che è possibile fare. E invece è molto più interessante come esperimento coinvolgere i cittadini e includerli in una valutazione dei servizi per chiedere loro dove possiamo andare a migliorare. Perché è chiaro che a volte abbiamo delle convinzioni ma non è detto che queste poi sempre effettivamente coincidano con la realtà di fatto. Andrea Bassi, siamo sicuri che ammesso che queste risorse economiche arrivino e nella quantità che si augura giustamente il Ministro, nell'APA ci siano le competenze necessarie per questa svolta digitale e anche per la semplificazione? Nel senso che l'età media dei dipendenti d'APA potrebbe essere un problema in tal senso? Sicuramente sì, però vorrei fare se possibile un piccolo inciso su quello che diceva la Ministra sul cloud nazionale che mi sembra una sfida questa qui sì da far tremare i polsi. Diciamo che il cloud nazionale che non so che nome avrà si confronterà con gli altri che sono sul mercato cioè con giganti tipo Amazon o Microsoft e ovviamente al cloud, all'efficacia, all'efficienza di questo cloud sarà legato anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale quindi questa è una sfida molto complessa credo per la pubblica amministrazione. Detto questo, diciamo che sì, il problema dell'età media degli statali italiani è un problema ormai annoso, ormai siamo a 50 e passa anni di età media e questo ovviamente è un ostacolo a quella che è la digitalizzazione ed è un ostacolo anche, lo è stato diciamo anche durante il lockdown anche durante lo smart working è vero che da parte del pubblico impiego c'è stata una risposta in qualche modo efficace però è stato uno smart working, una risposta di emergenza perché è pur vero che ci sono state delle aree di sicura eccellenza ma anche delle aree in cui le cose non sono andate bene come è abbastanza noto c'è stata una quota di dipendenti pubblici che soprattutto durante il primo lockdown è stata esentata dal servizio continuando a percepire lo stipendio e tutti i propositi di aumentare il personale pubblico dovuto al fatto che c'è un'enorme quantità di persone che stanno andando in pensione in questi anni anche spinti da quota 100 al momento non hanno trovato un'enorme soddisfazione nel senso lo abbiamo visto con la sanità con gli infermieri nel momento del bisogno ci si è trovati scoperti quindi benvenga se c'è una maggiore velocità e soprattutto anche una maggiore efficacia nei concorsi pubblici abbiamo visto, abbiamo scritto sul messaggero l'ultimo bando fatto dal Ministero della Giustizia quello che premiava l'anzianità esatto, è stato fatto un bando in cui venivano premiati gli anni di esperienza di avvocati o di magistrati onorari con il paradosso che sono stati ammessi a fare poi gli orali candidati anche di 70 anni che mai potrebbero essere comunque assunti nella pubblica amministrazione quindi diciamo anche su questo qui va fatto un po' un bagno di realtà le cose che vanno dette poi devono anche essere portate avanti portate a termine Ministro, due domande prima di parlare dello smart working quindi per diventare davvero digitale di quanti innesti avrebbe bisogno la pubblica amministrazione e con quali competenze e anche facendo tesoro di quanto ci ha appena raccontato e ci ha raccontato a fine anno il messaggero per firma proprio di Andrea pensa che il sistema dei concorsi andrebbe rivisto? Penso che il sistema dei concorsi andrebbe rivisto però se mi permette di replicare all'articolo che avevo letto rispetto al fatto che fosse stata premiata l'età avanzata perché si premiavano i titoli di studio in quel bando del concorso giustizia quella era una peculiarità data dal fatto che era un bando strutturato come un concorso di secondo livello cioè tenuto conto che si faceva titoli e colloquio senza la prova scritta si è deciso di elevare i livelli in ingresso quindi chiaramente quando si chiedono maggiori esperienze professionali non possono che entrare persone che hanno un'età più elevata che hanno avuto il tempo chiaramente di avere l'esperienza professionale il concorso che invece abbiamo fatto per esempio per il Ministero degli Affari Esteri vede delle percentuali molto diverse perché invece vede la maggioranza di quelli che hanno superato il concorso tra i 30 e i 40 anni per cui età completamente diverse perché lì era un concorso invece strutturato con una prova scritta e un orale al di là di questa questione che ci tenevo a precisare per dovere di onestà intellettuale il discorso della velocizzazione dei concorsi è un discorso importante però non è soltanto una questione di velocità cioè bisogna essere in grado di cambiare le modalità di selezione quindi velocizzare sicuramente con le procedure con i tempi di attesa tra le comunicazioni e questo tipo di lentezze però dall'altro lato bisogna essere anche in grado di riuscire a capire che tipi di professionalità vogliamo andare a selezionare e come ecco perché da tutto l'anno scorso ho lavorato sui modelli di selezione che utilizzano gli organismi europei cioè fare più attenzione alle competenze trasversali provare a valutare anche quelle che sono le esperienze di vita sapere come una persona si relaziona di fronte a una domanda che non sia una domanda semplicemente di competenza tecnica o giuridica quindi a me importa indubbiamente che abbiano una conoscenza ad esempio del diritto amministrativo ma dall'altro lato mi importa anche moltissimo forse addirittura di più sapere quali sono le sue competenze trasversali le sue gestioni dinamiche di gruppo come riesce a risolvere le situazioni impreviste improvvise che si creano quotidianamente all'interno della pubblica amministrazione e credo che si possa fare più attenzione a questo tipo di attitude chiamiamole così provando anche a pensare concorsi in una maniera differente quindi velocizzandole sì ma facendo comunque attenzione tanto alla competenza e al merito che non è sempre e solo legato alla conoscenza specifica delle materie tecniche dopodiché bisogna fare molta attenzione alle competenze giuridiche le cosiddette competenze STEM e a introdurre dei profili che abbiano una competenza digitale dovuta e di base è chiaro che in questo anno purtroppo anche la ripresa dei concorsi è andata a singhiozzo con delle riprogrammazioni che abbiamo dovuto fare e bloccare proprio per esigenze che sono state connesse alla pandemia però da qui in avanti l'auspicio è di poter riprendere con una velocità diversa per rispondere invece alla domanda sulla quantificazione di quanti fondi vorrei per una pubblica amministrazione differente è difficile riuscire a dare una cifra ideale io chiaramente lavorerò con quante persone anche questo è un tema secondo me non è soltanto un fatto di sostituzione uno a uno con le persone che oggi escono dalla pubblica amministrazione ecco perché anche nei progetti del recovery questo l'abbiamo inserito la pubblica amministrazione prima deve farsi un assessment delle proprie competenze interne sapere quali sono le professionalità che ha all'interno dell'amministrazione saper sfruttare bene quelle perché da lì si riesce avendo una mappatura delle competenze interne a capire quali effettivamente servono perché altrimenti rischiamo di fare una sostituzione uno a uno che dal mio punto di vista non gioverebbe ad avere una pubblica amministrazione che deve essere anche capace di essere smart sul fronte della sostituzione del personale non solo andando veloce con le procedure ma anche sendo in grado di individuare dei profili diversi in ruoli diversi che mutano soprattutto con un lavoro come il lavoro agile che richiede una flessibilità di un certo tipo Arrivando al lavoro agile lo smart working è sicuramente nel futuro della pubblica amministrazione probabilmente è stato anche dettato dall'emergenza il fatto che abbiamo dato tutta questa accelerata però ben venga nel senso che spesso grandi cambiamenti vengono innescati appunto da situazioni contingenti detto ciò però in questi mesi stando ai dati sembra che il lavoro agile sia stato meno diffuso a livello locale piuttosto che a livello centrale è davvero così? chiaramente a livello locale se prendiamo in particolare i comuni avevano una carenza di organico sulla quale era difficile riuscire a mettere con delle percentuali che abbiamo stabilito ad esempio il 50% dei dipendenti in lavoro da remoto è difficile riuscire a metterli se all'interno di un comune in particolare quelli sotto i 1000 abitanti hanno un dipendente a metà non li tagliamo esatto su questo non mi sono mai illusa neanche io pur ipotizzando di essere un ministro con un sacco di fantasia scherzi a parte è chiaro che sul territorio le amministrazioni più piccole hanno avuto difficoltà maggiore anche perché negli anni hanno avuto meno possibilità di investire anche sulla digitalizzazione le amministrazioni centrali invece su questo hanno avuto più facilità anche nell'investire negli anni nella formazione impersonale per cui certi tipi di amministrazione penso all'Inso e all'INA si sono prestate maggiormente a riuscire a fare un passaggio totale di lavoro da presenza fisica in remoto è chiaro che in altri tipi di amministrazione questo passaggio è stato meno efficace resta che dal mio punto di vista aver fatto il passaggio culturale nel ripensare le modalità organizzative del lavoro in una maniera differente sia stato il vero passo avanti cioè si può riorganizzare il lavoro non necessariamente spostandosi tutti i giorni facendo chilometri per recarsi in un ufficio e lavorare al pc senza magari neanche avere degli obiettivi da lì a fine giornata ma semplicemente perché quello che si chiedeva era andare all'interno degli uffici pubblici qui la semplifico moltissimo per riuscire a far capire il messaggio il passo invece che siamo riusciti a fare riusciamo a fornire il servizio anche da casa magari non con la stessa identica efficienza in questo momento ma nel momento in cui avremo la banda larga e una formazione di un certo tipo e un servizio in cloud che permetterà tra qui e un anno di riuscire a lavorare in maniera molto diversa con un'efficienza magari anche maggiore perché riusciamo a mettere il lavoratore in una condizione migliore per coniugare tempi di vita e di lavoro il privato dimostra che questo migliore servizio io credo che nel pubblico anche questo tipo di modalità organizzativa possa permettere a regime soprattutto un passo in avanti differente non tanto per l'utilità del dipendente pubblico quanto per riuscire ad ottenere un servizio che sia migliore e diverso Andrea Bassi in una tua intervista al ministro fra l'altro di poco tempo fa tu hai scritto che lo smart working il lavoro dipendente pubblico somiglia sempre più al lavoro autonomo si potrebbe quindi cambiare anche i sistemi di valutazione magari anche quelli di retribuzione dei lavoratori della PIA Sì, questo è un aspetto molto interessante adesso non vorrei sbagliarmi ma credo che addirittura nella prima bozza di recovery plan quella che poi era stata bocciata nel Consiglio dei Ministri del 7 dicembre ci fosse un accenno a questo tema cioè fosse scritto direttamente in quella bozza che in prospettiva le retribuzioni dei dipendenti pubblici sarebbero cambiate più proiettate verso il risultato e da quello che si capiva meno verso il tabellare questo è magari un quesito interessante al quale può rispondere la Ministra visto che siamo in una fase quasi di avvio delle contrattazioni poi con i sindacati per l'apertura del tavolo del rinnovo del contratto un contratto che tra l'altro diciamo scadrà il triennio del rinnovo scade quest'anno sperando non ci siano altri scioperi esatto e la Ministra si era impegnata a chiudere queste trattative entro quest'anno quindi le chiedo anche se poi ritiene di confermare questa scadenza Ministro l'assoluta intenzione da parte mia di aprire la fase di contrattazione anche perché l'ho ripetuto anche nei giorni che hanno proceduto e poi seguito lo sciopero lo sforzo da parte del governo in una manovra complicata come quella di quest'anno di stanziare risorse per riuscire ad aprire la fase contrattuale è stato importante e lo rivendico con forza e anzi ringrazio anche i lavoratori pubblici perché si sono messi moltissimo in gioco in questo anno nonostante tutte le difficoltà e sappiamo le rigidità del sistema che avevano di fronte per cui lo sforzo è stato grande questo è innegabile è chiaro che per me c'è l'intento di mantenere la parola data e quindi di aprire i tavoli di contrattazione e di discutere su questo ma in realtà non è neanche solo una mia volontà politica è che innestare una nuova modalità di organizzazione del lavoro che si basa sugli obiettivi quindi anche valutazione della produttività porta con sé delle valutazioni di questo tipo certo porta con sé delle valutazioni di ciò che viene fatto dall'individuo all'interno dell'organizzazione dell'amministrazione quindi performance non solo organizzative ma anche come quelle individuali si innestano in quelle organizzative sempre però dal mio punto di vista questo nelle linee guida sul Pola l'abbiamo anche sul piano organizzativo del lavoro agile l'abbiamo anche detto devono essere sempre collegate ad una valutazione partecipata da parte dell'utente questo è forse uno degli esperimenti anche culturalmente più difficili da fare ma che secondo me sono di maggiore impatto e di innovazione cioè provare a spostare l'attenzione non perché si voglia punire ma perché si voglia premiare il raggiungimento di un obiettivo e il fatto che il servizio effettivamente di una questione se qualcuno ci perde qualcosa più che altro comunque auguri perché diciamo parlare di produttività è complicato nel privato durante le contrattazioni non oso immaginare quanto lo sia nel pubblico ci stiamo avviando a chiudere quindi un ultimissimo giro di domande parto da Andrea e lo faccio su questa questione della produttività legata alla pubblica amministrazione più volte il presidente di Confindustria Bonomi ha parlato di una bassa produttività italiana soprattutto causata da una bassa produttività della pubblica amministrazione quanto c'è di vero? beh diciamo è un po' quello che ho detto prima nel senso che nella pubblica amministrazione ci sono alcune amministrazioni che funzionano bene penso all'agenzia delle entrate piuttosto che all'Inps che sono molto efficienti molto efficaci e ci sono invece amministrazioni che poi funzionano meno faccio anche un passo indietro sulla questione dei comuni perché lì lo smart working è stato ha funzionato un po' meno rispetto all'amministrazione centrale perché probabilmente nei comuni è più difficile fare lo smart working perché il comune poi alla fine diventa quello che è un po' il front office del cittadino sta sul territorio il cittadino sta lì e il cittadino vuole avere un contatto cioè è difficile immaginare che una persona che si rivolge a servizi sociali e spesso si ricoprono diverse funzioni essendo pochi comunque i dipendenti dei piccoli comuni certo esatto ma quello che dico se una persona sul territorio deve rivolgersi ai servizi sociali è difficile immaginare che lo possa fare per chat o per videoconferenza ovviamente ha bisogno di un contatto di un contatto diretto anche perché poi anche le competenze digitali di chi utilizza alcuni servizi comunali non sono non sono molto molto elevate è vero quello che dice Bonomi che diciamo che in alcuni che in alcuni comparti l'efficacia della pubblica amministrazione è bassa ma questo qui lo dicono tutte le classifiche internazionali basta vedere i tempi i tempi medi della burocrazia quindi è evidente che su quel fronte lì un intervento serve e se questo intervento può passare anzi sicuramente passa per una maggiore digitalizzazione venga ma anche qui torniamo al discorso iniziale la domanda è se poi i fondi che sono stanziati con il recovery che voglio ricordare che è veramente l'ultimo probabilmente l'ultimo treno l'ultimo l'ultimo se li usiamo per il cashback e basta o quasi esatto il cashback magari poteva trovare altre fonti di finanziamento ecco senta ministro una risposta a quanto ci diceva adesso Andrea Bassi poi l'ultimissima domanda sull'obbligatorietà per i dipendenti pubblici del vaccino ad un certo punto se le percentuali fossero basse sarebbe un'ipotesi da prendere in considerazione parto dall'intervento precedente dicendo che sicuramente per dare supporto all'azienda la pubblica amministrazione deve essere efficiente noi sappiamo che a livello di doing business purtroppo a livello di diciamo così di incombenze burocratiche il nostro paese è l'ultimo nelle classifiche europee questo perché perché la pubblica amministrazione richiede più volte dati e documenti che ha già in possesso io questa cosa l'ho detta talmente tante volte da tediare me stessa siamo già intervenuti con una norma perché il principio in realtà è norma di legge quello del once only per cui una volta si chiede un dato in documento dopodiché la pubblica amministrazione che in back office deve reperirlo e però finora non era stato disposto con quale mezzo con gli accordi di fruizione quindi siamo intervenuti a dire questo ora bisogna velocizzare ulteriormente gli accordi di fruizione però qui non è soltanto un fatto di lentezza e di inefficienza in senso lato diciamo così senza una specifica valutazione del fatto che in realtà quello che rallenta moltissimo è una gelosia una retrosia sull'accesso ai dati da un'amministrazione all'altra che fa sì che l'utente e le imprese si trovino a dover ripresentare presso gli uffici innumerevoli volte dati o documenti come dicevo prima dati che le varie amministrazioni potrebbero passarsi l'un l'altro esatto con degli accordi di fruizione molto più snelli per cui in realtà anche questo è più un passaggio culturale che è un passaggio per il quale servono effettivamente soldi e credo che sia il momento nel quale il paese possa superare anche questo genere di diciamo così di barriera psicologica che ha avuto fino ad oggi sulla funzione dei comuni e front office col cittadino io sono d'accordo ci tengo a specificare che il lavoro agile che abbiamo conosciuto o che così ho chiamato diciamo così nella fase emergenziale è stato più che altro un lavoro da remoto in un momento emergenziale un lavoro agile effettivo a regime non riguarderà la chiusura e ne abbiamo anche già parlato proprio in chiusura allora le ribadisco quella domanda sull'obbligatorietà del vaccino beh in questo momento in realtà io ricordo che era uscita una grande polemica da in realtà una considerazione molto ovvia che feci cioè il fatto che di fronte ad un paese che ha la capacità di riuscire ad arrivare non solo ai propri dipendenti pubblici ma tutti i cittadini in un'attività non di persuasione ma di raccomandazione rispetto all'opportunità di vaccinarsi a fronte di una pandemia dalla quale forse stiamo cominciando a vedere la via di uscita arrivare a parlare di obbligatorietà mi sembra prematuro anche tenuto conto del numero dei vaccini che abbiamo a disposizione per cui imporre un'obbligatorietà su tutti mi sembra in questo momento anche fuori discussione proprio per una questione di numeri quantomeno è un tema da porci diciamo in un secondo momento lei dice esatto un tema che eventualmente si potrebbe porre in un secondo momento qualora non si riuscisse a raggiungere quella percentuale che garantirebbe l'immunità però sulla quale io invece continuo a confidare perché credo che le persone si riescano a rendere conto in questo momento dell'importanza anche visto l'anno che abbiamo passato giusto auspicio grazie ministro e buon lavoro grazie per questa intervista che si è rilasciata grazie grazie a tutti